Giorgio Giannella, ieri l'osservatore indipendente per le acque del Gran Sasso ha partecipato alla seduta della Commissione Ambiente e Territorio della Regione. Un passo importante per la presenza e per il monitoraggio, sicuramente della messa in sicurezza dell'acquifero e di tutto ciò che riguarda il concetto ambientale abruzzese. Sì, quella di ieri è stata un'edizione richiesta più di tre mesi fa alla Commissione Ambiente del Consiglio regionale e finalmente la prima interlocuzione con non solo un'istituzione regionale ma con tutti i consiglieri regionali su questo problema. Li ringraziamo per l'attenzione perché è durata l'audizione più di un'ora e mezza e c'è stata quindi la possibilità di presentare quelle che sono state tutte le nostre osservazioni fatte rispetto all'accesso agli atti che in questi mesi abbiamo potuto compiere. Parliamo di un lavoro di più di un anno e mezzo, abbiamo consegnato un report nel dettaglio le criticità che noi abbiamo riscontrato in quello che è stato fatto fino adesso e la cosa veramente positiva, essendoci stata la presenza anche del Vice Presidente della Regione Lolli, la disponibilità finalmente di aprire il tavolo tecnico costruito dalla Regione con tutti gli enti preposti anche all'osservatorio. Questa era una delle prime richieste che l'osservatorio aveva fatto non solo per la trasparenza ma anche per la possibilità appunto di non dover ricostruire successivamente tutto l'operato fatto all'interno di questo tavolo. Oggi inizia quindi un percorso nuovo dopo un anno e mezzo e la vera battaglia adesso sarà sui tempi, cioè sulla capacità di recuperare tutto quello che non è stato fatto fino ad oggi perché abbiamo sentito diverse progettazioni però finalmente anche nel tavolo tecnico è emersa l'esigenza di ripartire dalla impermezzazione completa e noi abbiamo messo un accento anche sull'applicazione, sul rispetto della Seveso perché è una normativa che gli enti preposti invece a quanto pare nei laboratori in questi anni hanno lasciato correre e quindi lo stoccaggio di quel materiale che sappiamo essere nocivo.